Il senso che, come ho detto prima, oltre agli aspetti di caratteristica di pianificazione urbanistica ci sono anche nuove concessioni che stanno per essere rilasciate, quindi finalmente dopo la fase di pianificazione arriviamo a mettere sul campo sia attività sia servizi e anche la nostra presenza, anche l'autorità di sistema portuale ha divito dei locali alla propria presenza del nostro personale all'interno dell'autorità di sistema, degli uffici di Chioggia che era una cosa che c'è stata chiesta dagli imperatori, del comune e anche dalla cartaneria e quindi insomma questo è un altro momento che ci fa inverare una strategia che avevamo messo in campo quando abbiamo dipinto il nostro piano operativo triennale e che finalmente riusciamo a pian piano a mettere a terra. Quindi io ringrazio innanzitutto per aver accetto la nostra sede per fare questo momento di informazione e non vedo l'ora di poter concludere l'inter, che sicuramente sarà poi messo come dovuto l'attenzione del comitato di gestione che comunque è ovviamente informato della cosa e segue con attenzione anche con impulso il perfezionamento dell'inter e l'avvio dell'attività. Grazie. Grazie.